Cavatigozzi avrà la sospirata rotatoria nella zona del cimitero in via Milano all'ingresso del centro abitato dove la ciclabile proveniente da Cremona finisce proprio in mezzo al traffico nel quale si insinuano spesso mezzi pesanti. Il cantiere sarà aperto in primavera per concludersi entro l'ottobre di quest'anno come annunciato ieri dall'assessore alla viabilità Simona Pasquali in un incontro online con il comitato di quartiere. La ciclabile di via Milano sarà fatta proseguire verso via Spinadesco per poi passare di fronte all'acciaieria Arvedi e a prodare in via Marconi su territorio del comune vicino. Sarà quindi definitivamente scongiurata la chiusura di via Marconi che non diverrà strada privata. La mobilità sostenibile fa qualche passo avanti nella frazione cittadina anche grazie alla manutenzione appena eseguita del sottopasso ciclopedonale di via Bonisolo che sbuca vicino alla Liquigas superando così l'ostacolo dei binari. Altra risposta positiva dell'amministrazione riguarda il passaggio a livello di via Casanova che non sarà chiuso. Il traffico dunque non sarà mai indirizzato verso il centro della frazione. Resta un dramma invece il frastuono dell'area industriale a causa fra l'altro del fito transito di tir su via Acquaviva dal manto stradale ridotto a Groviera e da tempo non più sistemato malgrado le lamentele dei cittadini della zona. Le ruote dei mezzi pesanti infatti sobbalzando sulle profonde buche e che già non è la notte. Le molestie acustiche causate dalle attività industriali non trovano però ancora soluzione e il piccolo bosco di via Acquaviva non basta a proteggere il diritto alla quiete degli abitanti.